ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco allozov farmaceutici caber srl ultimo aggiornamento 17 settembre 2021 cosa allozov confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere allozov durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza e elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa allozov allozov è un farmaco a base del principio attivo fluconazolo appartenente alla categoria degli antimicotici e nello specifico derivati triazolici è commercializzato in italia dall'azienda farmaceutici caber srl allozov può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni allozov 100 mg 10 capsule rigide allozov 150 mg 2 capsule rigide informazioni commerciali sulla prescrizione titolare ibn savio srl concessionario farmaceutici caber srl ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo fluconazolo gruppo terapeutico antimicotici forma farmaceutica capsula indicazioni allozov è indicato nelle seguenti infezioni micotiche vedere paragrafo 51 allozov è indicato negli adulti per il trattamento di meningite criptococcica vedere paragrafo 44 cucidioidomicosi vedere paragrafo 44 candidiasi invasiva candidiasi delle mucose incluse candidiasi orofaringea candidiasi esofagea candiduria e candidiasi mucocutanea cronica candidiasi orale trofica cronica stumatite da protesi dentale nel caso in cui igiene dentale trattamento topico siano insufficienti candidiasi vaginale acuta o ricorrente quando la terapia locale non è appropriata balanite da candida quando la terapia locale non è appropriata dermatomicosi incluse tinea pedis tinea corporis tinea cruris tinea versicolo infezioni cutanee da candida quando si è indicata la terapia sistemica tinea unguinium onicomicosi quando altri trattamenti non siano considerati appropriati allozov è indicato negli adulti per la profilassi di recidiva di meningite criptococcica in pazienti ad alto rischio di ricaduta recidiva di candidiasi orofaringea o esofagea in pazienti affetti da iva ad alto rischio di presentare ricadute per ridurre l'incidenza della candidiasi vaginale ricorrente quattro più episodi all'anno profilassi delle candidemie nei pazienti con neutropenia prolungata esempio pazienti con patologie ematologiche maligne sottoposti a chemioterapia o pazienti che ricevono trapianto di cellule staminali emopoietiche vedere paragrafo 5 1 allozov è indicato nei neonati a termine lattanti infanti bambini adolescenti da 0 a 17 anni allozov è usato nel trattamento delle candidiasi delle mucose orofaringe esofagee candidiasi invasive meningite criptococcica e nella profilassi delle candidiasi nei pazienti immunocompromessi allozov può essere usato come terapia di mantenimento per prevenire le ricadute di meningite criptococcica nei bambini ad alto rischio di recidiva vedere paragrafo 4 4 la terapia può essere istituita prima che si conoscano i risultati delle colture o di altri test di laboratorio ma quando i risultati diventano disponibili la terapia anti infettiva deve essere adeguata conseguentemente bisogna tenere in considerazione le linee guida ufficiali per l'uso appropriato degli antimicotici posologia posologia il dosaggio deve essere basato sulla natura e sulla gravità dell'infezione micotica il trattamento delle infezioni che richiedono dosaggi multipli deve proseguire finché i parametri clinici o altri esami di laboratorio non dimostrino che l'infezione micotica attiva sia scomparsa un periodo di trattamento inadeguato potrebbe portare alla recidiva dell'infezione attiva adulti indicazioni posologia durata del trattamento criptococcosi trattamento della meningite criptococcica dose di carico 400 mg il giorno 1 dose successiva da 200 mg a 400 mg barra di e generalmente da sei a otto settimane nelle infezioni che costituiscono rischio per la vita la dose può essere aumentata fino a 800 mg terapia di mantenimento per prevenire le ricadute di meningite criptococcica nei pazienti ad alto rischio di recidiva 200 mg barra di e indefinitamente alla dose giornaliera di 200 mg cocidioidomicosi da 200 mg a 400 mg 11 mesi fino a 24 mesi o più in base ai pazienti 800 mg barra di e possono essere considerati per alcune infezioni e specialmente per le meningite candidiasi invasive dose di carico 800 mg il giorno 1 dose successiva 400 mg barra di e in genere la durata della terapia raccomandata per la candidemia è di due settimane dopo i risultati della prima emocoltura negativa e la risoluzione dei segni e sintomi attribuibili alla candidemia trattamento della candidiasi delle mucose candidiasi oro faringea dose di carico da 200 mg a 400 mg il giorno 1 dose successiva da 100 mg a 200 mg barra di e da 7 a 21 giorni fino a quando la candidiasi oro faringea non è in remissione nei pazienti con gravi compromissioni immunitaria si possono usare periodi più lunghi candidiasi esofagea dose di carico da 200 mg a 400 mg il giorno 1 dose successiva da 100 mg a 200 mg barra di e da 14 a 30 giorni fino a quando la candidiasi esofagea non è in remissione nei pazienti con gravi compromissioni immunitaria si possono usare periodi più lunghi candiduria da 200 mg a 400 mg barra di e da 7 a 21 giorni nei pazienti con gravi compromissioni immunitaria si possono usare periodi più lunghi candidiasi atrofica cronica 50 mg barra di e 14 giorni candidiasi mucocutanea cronica da 50 mg a 100 mg barra di e fino a 28 giorni periodi più lunghi in base sia la gravità dell'infezione sia l'immuno compromissione o all'infezione di base prevenzione delle recidive delle candidiasi delle mucose nei pazienti affetti dai che sono ad elevato rischio di recidiva candidiasi oro faringea da 100 mg a 200 mg barra di e o 200 mg 3 volte a settimana periodo indefinito per i pazienti con immunosoppressione cronica candidiasi esofagea da 100 mg a 200 mg barra di e o 200 mg 3 volte a settimana periodo indefinito per i pazienti con immunosoppressione cronica candidiasi genitale candidiasi vaginale acuta balanite da candida 150 mg dose singola trattamento e profilassi delle ricadute della candidiasi vaginale 4 più episodi all'anno 150 mg ogni terzo giorno per un totale di tre dosi giorno 1 4 e 7 seguiti da una dose di mantenimento di 150 mg una volta a settimana dose di mantenimento 6 mesi dermatomicosi tinea pedis tinea corporis tinea cruris infezioni da candida 150 mg una volta a settimana 50 mg una volta al giorno da 2 a 4 settimane latina pedis può richiedere un trattamento fino a 6 settimane tinea versicolor da 300 mg a 400 mg una volta a settimana da 1 a 3 settimane 50 mg una volta al giorno da 2 a 4 settimane tinea unguium onicomicosi 150 mg una volta a settimana il trattamento deve essere continuato finché l'unghia infetta non è sostituita l'unghia sana ricresce la ricrescita delle unghie delle dita delle mani e dei piedi richiede normalmente da 3 a 6 mesi e da 6 a 12 mesi rispettivamente comunque la velocità della crescita può variare molto in base ai soggetti all'età dopo trattamento efficace di infezioni croniche di lungo termine le unghie potrebbero restare alterate profilassi delle infezioni da candida in pazienti con neutropenia prolungata da 200 mg a 400 mg il trattamento deve iniziare diversi giorni prima della prevista comparsa di neutropenia e continuare per sette giorni dopo la ripresa dalla neutropenia dopo che la conta dei neutrofili sarà salita oltre mille cellule per millimetri 3 popolazioni speciali anziani il dosaggio deve essere adeguato in base alla funzionalità renale vedere compromissione renale compromissione renale allozzo viene eliminato in modificato principalmente attraverso le urine non sono necessari adattamenti quando si effettua una terapia in unica dose quando invece si effettua una terapia con dosi ripetute di fluconazzolo nei pazienti con insufficienza renale inclusa la popolazione pediatrica dovrà essere somministrata una dose iniziale compresa tra 50 mg e 400 mg sulla base della dose giornaliera raccomandata per l'indicazione dopo questa dose iniziale di carico il dosaggio giornaliero a seconda dell'indicazione dovrà essere modificato in base allo schema seguente alle arance della creatinina ml barra min dose raccomandata percentuale 50 100 per cento di 50 nessuna dialisi 50 per cento dialisi regolare 100 per cento dopo ogni seduta di dialisi i pazienti sottoposti a dialisi regolare devono ricevere il 100 per cento della dose raccomandata dopo ogni seduta di dialisi nei giorni senza dialisi i pazienti devono ricevere una dose ridotta in base alla clarance della creatinina compromissione epatica sono disponibili dati limitati nei pazienti con compromissione epatica quindi fluconazzolo deve essere somministrato con cautela nei pazienti con alterazione della funzionalità epatica vedere paragrafi 4 4 e 4 8 popolazione pediatrica nella popolazione pediatrica non bisogna superare la dose massima di 400 mg barra vie come per le analoge infezioni negli adulti la durata del trattamento si basa sulla risposta clinica e micologica allozo viene somministrato in dose singola giornaliera per i pazienti pediatrici con funzionalità renale compromessa vedere il dosaggio al paragrafo compromissione renale la farmacocinetica del fluconazzolo non è stata studiata nella popolazione pediatrica con insufficienza renale per i neonati a termine che spesso mostrano principalmente immaturità renale vedere di seguito lattanti infanti e bambini da 28 giorni a 11 anni indicazione posologia raccomandazioni candidiasi delle mucose dose iniziale 6 mg barra chilogrammi dose successiva 3 mg barra chilogrammi barra vie la dose iniziale può essere usata il primo giorno per raggiungere più rapidamente i livelli di stea di state candidiasi invasive meningite criptococcica dose da 6 a 12 mg barra chilogrammi barra vie in base alla gravità della malattia terapia di mantenimento per la prevenzione di ricadute di meningite criptococcica nei bambini ad alto rischio di recidiva dose 6 mg barra chilogrammi barra vie in base alla gravità della malattia profilassi della candida nei pazienti immunocompromessi dose da 3 a 12 mg barra chilogrammi barra vie in base all'entità e alla durata della neutropenia indotta vedere posologia negli adulti adolescenti da 12 a 17 anni in base al peso e allo sviluppo puberale il medico avrà bisogno di valutare quale posologia sia la più adeguata adulti o bambini i dati clinici indicano che i bambini hanno una clarance del fluconazzolo più elevata di quella riscontrata negli adulti una dose di 100 200 e 400 mg negli adulti corrisponde a una dose di 3 6 e 12 mg barra chilogrammi nei bambini per ottenere un'esposizione sistemica comparabile la sicurezza e l'efficacia per l'indicazione candidiasi genitale nella popolazione pediatrica non sono state stabilite i dati di sicurezza attualmente disponibili per le altre indicazioni pediatriche sono descritti al paragrafo 4 8 nei casi in cui sia assolutamente necessario il trattamento della candidiasi genitale negli adolescenti da 12 a 17 anni la posologia deve essere la stessa degli adulti neonati a termine da 0 a 27 giorni l'escrezione di fluconazzolo nei neonati avviene lentamente ci sono pochi dati farmacocinetici a sostegno di questa posologia nei neonati a termine vedere paragrafo 5 2 età posologia raccomandazioni neonati a termine da 0 a 14 giorni la stessa dose mg barra chilogrammi prevista per la tanti infanti e bambini deve essere somministrata ogni 72 ore non deve essere superata la dose massima di 12 mg barra chilogrammi ogni 72 ore neonati a termine da 15 a 27 giorni la stessa dose mg barra chilogrammi prevista per la tanti infanti e bambini deve essere somministrata ogni 48 ore non deve essere superata la dose massima di 12 mg barra chilogrammi ogni 48 ore modo di somministrazione il fluconazzolo può essere somministrato sia per via orale sia tramite infusione endovinosa in base allo stato clinico del paziente nel passaggio dalla via endovinosa a quella orale o viceversa non è necessario modificare il dosaggio giornaliero il medico deve prescrivere la forma farmaceutica e il dosaggio più appropriati in base all'età al peso e alla posologia la formulazione della capsula non è adatta per l'uso i neonati e bambini piccoli sono disponibili formulazioni liquide orali di fluconazzolo che sono più adatte a questa popolazione le capsule devono essere deglutite intere e indipendentemente dall'assunzione di alimenti controindicazioni ipersensibilità al principio attivo ai composti azolici correlati o ad uno a qualsiasi degli eccipienti vedere paragrafo 61 la somministrazione concomitante di terfenadina è controindicata nei pazienti sottoposti a terapia con alozofa dosi multiple e 400 mg barra die sulla base dei risultati di uno studio di interazione con dosi multiple la somministrazione concomitante di altri farmaci che prolungano l'intervallo qt e che sono metabolizzati tramite il citocromo p 450 chip 3 a 4 come cisapride astimizolo pimozide chinidina eritromicina è controindicata nei pazienti sottoposti a terapia con fluconazzolo vedere paragrafi 4 4 e 4 5 avvertenze speciali e precauzioni di impiego tinea capitis il fluconazzolo è stato studiato per il trattamento della tinea capitis nei bambini è stato dimostrato che non è superiore alla grise o fulvina e che il tasso generale vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione l'uso concomitante dei seguenti medicinali è controindicato cisapride sono stati riportati casi di eventi cardiaci tra cui torsioni di punta in pazienti sottoposti e somministrazione concomitante di fluconazzolo e vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere allo zof insieme ad altri farmaci come abstral actic agile aircourt sospensione aircourt spray al ghe don al gram al faus al pand amarill ancill agreeing aranda compressa rivestita a arca s hä tôrys compressa rivestita attorvata tina bici compressuri vestite attorvata tina accord attorvata tina almus farm a torvata tina alter attorvata tina aristo farm a torvata tina euro bindo attorvata tina doc attorvata tina e g attorvata tina jikt compressi rivestite attorvata tina cours at Atorvastatina Milan Generics Italia, Atorvastatina Pensa, Atorvastatina Pfizzer, Atorvastatina Sandots GmbH, Atorvastatina Sun, Atorvastatina Technigen, Atorvastatina Teva Italia, Atorvastatina Zentiva, Atover, Compresse rivestite, Atover, Compresse rivestite, Batiflox, BDN, Budinet, Budix, Buccolam, Budesonide Sandots, Budesonide Teva, Budesonide Viatris Novolizer, Polvere, Budixan, Budineb, Kafergot, Cardiovask, Compressa rivestita, Colib, Compresse rivestite, Coleama, Coripren, Compresse rivestite, Cortiment, Comadine, Downhill, Depas, Diebrezide, Diellimet, Dieamel, Diemicron, Compressa rilascio modificato, Diedergot, Doclevo, Dogetik, Domperidone ABC, Domperidone Doc Generici, Domperidone IG, Domperidone Giuliani, Domperidone Milagenerics, Domperidone Sandoz, Domperidone Teva, Domperidone, Compressa rilascio modificato, DuCressa, Duoresp Spiromax, Aerosol, Durfenta, Durogesic, Effentora, Eltair, Eltairneb, Inalaprile Lerconi di Pina Doc, Inalaprile Lerconi di Pina EG, Inalaprile Lerconi di Pina Corca, Inalaprile Lerconi di Pina Milan Farm, Inalaprile Lerconi di Pina Teva, Compresse rivestite, Entocir, Epifloxin, Eritromicina ID, Crema, Soluzione, Eritromicina ID, Gel, Eritromicina Lattobionato Fisiofarm, Ezzetimi Vettor Vastatina Doc, Ezzetimi Vessim Vastatina Almus, Ezzetimi Vessim Vastatina Alter, Ezzetimi Vessim Vastatina Aurobindo, Ezzetimi Vessim Vastatina Doc Generici, Ezzetimi Vessim Vastatina EG, Ezzetimi Vessim Vastatina Corca, Ezzetimi Vessim Vastatina Milan, Ezzetimi Vessim Vastatina Sandoz, Ezzetimi Vessim Vastatina San, Ezzetimi Vessim Vastatina Tecnigen, Ezzetimi Vessim Vastatina Teva, Izzetimibesimbastatina zentiva, faleve, fenpatc, fenroo, fentalgon, fentanest, fentanilaristo, fentanilameln, fenticer, femvel, findatur, floccsystil, floccsyne, fobuler, polvere per inalazione, gibiter, polvere per inalazione, gleucos, gliben, glibomet, gliboral, gliclazide docgenerici, gliclazide eg, gliclazide crca, compressa rilascio modificato, gliclazide laboratori eurogenerici, gliclazide molteni, gliclazide milagenerics, gliclazide pensa, gliclazide sandoz, compressa rilascio modificato, gliclazide san, gliclazide teva, gliclazide teva italia, gliclazide zentiva, gliclazide zentiva lab, gliconorm, glicorest, glimepiride acorde altcare, glimepiride aurobindo, glimepiride eg, glimepiride sandoz gmbh, glurenor, goltor, grey, compressa rivestita, imbruvica, inegi, in stanil, in testicort, ipnovel, in arc, kesol, kexrolt, kinofta, clectica, colester, crustat, lauromicina, compressa, lauromicina, unguento, le maxill, l'ercadip, compressa rivestita, l'erconidipina aurobindo, l'erconidipina docgenerici, l'erconidipina eg, l'erconidipina milan, l'erconidipina ratiofarmitalia, l'erconidipina sandoz, l'erconidipina san, l'erconidipina tecnigen, l'erconidipina zentiva, l'ercaprel, compresse rivestite, l'ercaprel, compresse rivestite, leviosa, levobat, levodrop, levofloxacina abc, levofloxacina accord, levofloxacina almus, compressa rivestita, levofloxacina alter, levofloxacina aristo, compressa rivestita, levofloxacina aurobindo, levofloxacina bioindustrialim, levofloxacina doc, levofloxacina eg, compressa rivestita, levofloxacina galenica sense, levofloxacina GIT, compressa rivestita, levo floxacina ICMA, levo floxacina CABI, levo floxacina CORCA, levo floxacina Milan Generics Italia, levo floxacina PENSAFARM, levo floxacina Sandoz, compressa rivestita, levo floxacina San, compressa rivestita, levo floxacina Tecnicen Italia, levo floxacina TEVA, levo floxacina ZENTIVA, levo xalcin, levo xigram, li penil, lipo norm, li sitens, lo juxta, lo vastatina DOC, LOVASTATINA EG, LOVASTATINA MILAN FARMA, LOVASTATINA TEVA, LOVINA COR, MARXIDE, MATRIFEN, MIDIPO, MELEMIB, METERGIN, MIDAZOLAMA CORDELT CARE, MIDAZOLAMBIO INDUSTRIALIM, MIDAZOLAMA AMEMFARMACEUTICALS, MIDAZOLAMBI, MIFLONI DEBREZALER, MINIDIAB, MUTILIUM, NIGIPRESS, OFTACQUIX, COLIRIO, OMEGASTATIN, OMISTAT, ORVATEZ, PASADEN, PECFENT, PERIDON, PRIXAR, PULMAXAN, POLVERE, PULMAXAN, SOSPENSIONE, PULMAILIA, QUINSAIR, RANEXA, COMPRESSA RILASCIO MODIFICATO, RAPANUNE, COMPRESSA RIVESTITA, RAPANUNE, SOLUZIONE, RAXAR, RECSTAT, RIGES, ROSIM, SAMSCA, SEGLOR, SETURILIN, SEVENDOC, SIMBATRIX, SIMBASTATINA ARC, SIMBASTATINA ACCORD, SIMBASTATINA ALMUS, SIMBASTATINA ALTER, SIMBASTATINA ARISTO, SIMBASTATINA AUROBINDO, SIMBASTATINA DOC, SIMBASTATINA EG, SIMBASTATINA GIT, SIMBASTATINA EXAL, SIMBASTATINA CORCA, SIMBASTATINA MILAN GENERICS, SIMBASTATINA PENSA, SIMBASTATINA SANDOZ, SIMBASTATINA SAN, SIMBASTATINA TECHNIGEN, SIMBASTATINA TEVA ITALIA, SIMBASTATINA ZENTIVA, compressa rivestita, simvastatina zentiva, compressa rivestite, simcol, sineflox, sinestic turboaler, aerosol, simvacor, simvalip, simvat, sirturo, simvastin, solosa, sopavi, staticol, suquanemme, sumaflox, simbicort, aerosol, simbicort mite, talentum, tandemact, tabacor, tavanic, compressa rivestita, tavanic, soluzione, uso interno, taxat, turvaptanteva, torisell, torvacol, torvast, compressa, compressa rivestita, torvast, compressa masticabile, totalip, compressa, totalip, compressa masticabile, tovanira, trissil, triveram, tiverb, vastat, vastgen, vastin, velofent, virdex, visuflox, vitorin, xarator, xipocol, zanedip, compressa rivestita, zanipril, compressa rivestite, zestan, zevistat, zinerit, zocor, eccetera. Chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute, assumere allozov durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere allozov durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Uno studio osservazionale ha indicato un rischio aumentato di aborto spontaneo nelle donne trattate con fluconazolo durante il primo trimestre. Nei neonati le cui madri sono state sottoposte, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari Non sono stati effettuati studi sugli effetti di allozov sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. I pazienti devono essere avvisati che possono occasionalmente verificarsi capogiri o convulsioni, vedere paragrafo 4, 8, durante la terapia con allozov, e che non devono guidare o azionare macchinari nel caso in cui si manifesti uno di questi sintomi. Effetti indesiderati Le reazioni avverse più frequentemente segnalate, un decimo, sono cefalea, dolore addominale, diarrea, nausea, vomito, aumento della lanina aminotransferasi, aumento dell'aspartato aminotransferasi, aumento della fosfatasi alcalina e rash. Durante il trattamento con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Sovradosaggio Sono stati riportati casi di sovradosaggio con allozov e contemporaneamente sono state segnalate allucinazioni e comportamento paranoico. In caso di accidentale sovradosaggio, si può rendere necessario un trattamento sintomatico, con un'adeguata terapia di supporto ed eventualmente la banda gastrica. Il fluconazzolo viene escreto in massima parte attraverso le urine. Una diuresi forzata aumenta probabilmente la percentuale di eliminazione. Una seduta di emodialisi di tre ore diminuisce i livelli plasmatici di circa il 50%. Proprietà farmacodinamiche Classificazione ATC Categoria farmacoterapeutica Antimicotici per uso sistemico, derivati triazolici Codice ATC Ilunga 02-AC01 Meccanismo d'azione Il fluconazzolo è un antimicotico triazolico. Il suo meccanismo d'azione principale è l'inibizione, proprietà farmacocinetiche. Le proprietà farmacocinetiche del fluconazzolo sono simili sia con la somministrazione per via endovinosa che per via orale. Assorbimento Somministrato per via orale, il fluconazzolo è ben assorbito, con livelli, dati preclinici di sicurezza. Negli studi preclinici sono stati osservati effetti soltanto ad esposizioni considerate sufficientemente superiori alla massima esposizione nell'uomo, il che indica una scarsa rilevanza clinica. Carcinogenesi Il fluconazzolo non ha evidenziato, elenco degli eccipienti, lattosio monoidrato, amido pregelatinizzato, magnesio sterato, silice colloidale anidra, sodio laurilsolfato. Capsula Gelatina, titanio di ossido, e 171, ossido di ferro giallo, e 172 solo nelle capsule da 100 mg. Farmaci equivalenti I farmaci equivalenti di alozofa base di fluconazzolo sono Aviflucox, Canacid, Crinoxol, Diflucan, Capsula, Diflucan, Capsula, Soluzione, Uso interno, Di Zolo, Il-Azor, Fluconazzolo ABC, Fluconazzolo Accord, Fluconazzolo Admus, Fluconazzolo Aurubindo, Fluconazzolo Doc Generici, Fluconazzolo EG, Fluconazzolo Exal, Fluconazzolo Milan, Fluconazzolo Pensa, Fluconazzolo Ratiofirm, Fluconazzolo Sandox, Fluconazzolo Sun, Fluconazzolo Sun, Fluconazzolo 152, Zoluzentiva, Flucostinol, Fluchimex, Flumicon, Flumos, Fluores, Fungus, Gemiflux, Kleider, Lefunzol, Lucandiol, Miconix, Muches, Riflax, Tedim, Trimicos, Vinc, Zamizol, Zerfun, Zoloder, Fonte, Foglietto Illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.